Velocità e urgenza per le vaccinazioni ai disabili è quanto chiede la presidente dell'associazione aquilana PTDH Anna Rita Felici Verna. L'associazione locale che da anni partecipa alla vita cittadina con moltissime attività e con una cura enorme per i propri iscritti è aperta tutti i giorni. Non ha mai smesso di offrire il suo supporto ai ragazzi e alle famiglie. Per questo la presidente ritiene urgente vaccinare questa categoria perché in realtà non c'è nessuna differenza tra strutture per anziani in una comunità come la loro, che è anch'essa fragile. Il potere, secondo lei, spesso non ascolta. Ora che si parla di vaccini e di maggiore sicurezza per tutti noi, perché abbiamo passato periodi bruttissimi, abbiamo dovuto acquistare anche i tamponi per vedere un attimo con i nostri operatori come era la situazione, però purtroppo io faccio una breve analisi di quello che può succedere, brevissima. Brevissima significa che se si ammala mio figlio che è disabile, psichico grave e se ne va in ospedale, io lo debbo assolutamente accompagnare perché non è autonomo. Lo accompagno. Se io mi ammalo, mio figlio resta solo. Chi mi va a sostituire in quell'ambiente? Una persona come mio figlio e anche altre persone che non hanno la capacità di gestirsi, possono morire, morire così, abbandonati. Allora, per prevenire tutto questo, io dico che non dobbiamo essere più invisibili, dobbiamo essere presi in considerazione. Se ne sta parlando, però non arriva quel momento importante che è la chiamata della somministrazione del vaccino. Di questa battaglia per i disabili si è occupato come sempre Massimo Prosferococco, che aveva richiamato ad esempio all'ingiustizia di vaccinare i personali dell'università o della scuola, ma non insieme ai fragili e ai disabili, cosa che poi si è ottenuta. Ma c'è molta attesa per la data che l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri ha indicato alle associazioni come inizio delle vaccinazioni per tutte le categorie vulnerabili, fragili e disabili, vale a dire il prossimo 15 marzo. Le associazioni vigileranno sul rispetto di questa indicazione, ovviamente.